Ciao sono Lara Zavatteri e faccio questo video dalla zona di Mezzana chiamata Borghito. Allora non so se sentire tanto o se saranno dei problemi, comunque ne sono un piccolo video perché siccome è dei giorni che c'è molto vento magari c'è dei problemi per quanto riguarda l'audio. Allora sono all'inizio di Mezzana scusami mi mangio le lacrime perché è veramente un freddo bestiale, sono appunto all'inizio di Mezzana che è la parte di cui parli insomma del mio libro, vedi se riesce a recuperarlo, che è questo, aroma di caffè e profumo di fieno, piccola storia di una casa nel Borghito. Allora di che parla sto libro? Praticamente la casa del Borghito è la casa che sta dei miei noni e lei è anche la casa in cui abitare, scusami non sono commossa ma è il vento e il freddo che mi fa venire giù le lacrime. Ecco e allora quindi parli storie che le vere tranne alcune leggende storie paurose, delle piccole storie insomma del Borghito. Che è sto Borghito? Allora non è la località, lì è un modo di identificare una zona. Sta zona l'era quella praticamente alle mie spalle, sono qui nei prati sotto praticamente, la zona del Stradon partendo dalla prima casa di Mezzana, quella nella fontana, per chi viene da Plano, da Piano di Comezzadura, fin dentro un po' prima dell'albergo Ravelli. Praticamente quei che erano su Stradon, tutti quei che erano su insomma erano gli abitanti del Borghito e le anche adesso abitanti del Borghito. Questo libro appunto parla di che? Il parla intanto quel che è capitato nella mia casa, per esempio che delle storie con la S maiuscola, ad esempio delle fosse erviatine se parla, oppure quel che capitano sai per esempio quando la Mezzana che era i tedeschi, qui si parla anche un po' in generale. Quindi se parte sì dalla mia casa del Borghito però parlando poi del Borghito in generale. Se parla ad esempio del poeta del Borghito, che era l'Edoardo Redolfi, che l'abitava nella casa che l'è qui vicina, quella è la mia spalla, quella che vede qui, ecco, con quei pontesei, ecco l'era casa dove abitava l'Edoardo Redolfi, che appunto le sta un poeta del Borghito perché scriveva poesie che le chiamavano Rimele. Ecco, si parla dopo per esempio di Mitterndorf. Allora per chi che non lo sa, Mitterndorf era il posto dove era sta mandare i vermigliani durante la prima guerra mondiale, proprio perché qui erano Austria e in pratica erano stati mandati in questa località che era una sorta di campo, campo, lo chiamavano baracche in lager, proprio perché era un campo delle baracche in cui gli appatti, miserie, fred, fam, tanti e morti, gli stai mandati via per alcuni anni e poi tornati per trovare Vermiglio rasa al suolo. Ecco, e quindi parli di questo perché direi, perché che c'entra Vermiglio col Borghito a Mezzana? Il c'entra perché in pratica l'era la storia di una delle abitanti del Borghito, che era la Maddalena Gabrielli, che l'ha sposato poi in Guido Lucetti e quindi l'ha poi trasferito a Mezzana. Ecco, e quindi si parla per questo de Mitterndorf e quindi che di tutte storie di questo genere si parla appunto, come di prima, sia della mia casa, sia un po' del Borghito in generale, con dei ricordi, con robe che mi contava i miei noni, che mi contava anche mia mamma, eccetera, o che sovi mie, e quindi il polesso del bel per tutti coloro che abita qui, oppure che aveva avuto dei genitori o degli avi, insomma, che veniva da Mezzana. Ecco, hai fatto un video in dialetto, sperando che il capisate, anche per quei su Facebook, visto che hai fatto il gruppo Oriundi di Mezzana e della Val di Sole, che magari lontani, però pensi che comunque un po' del dialetto di Mezzana o anche a tanti, io lo capisco. Allora, intanto vi saluti, Bardi, se riesce a farvi vedere il vergotto, è un po' qui, se muovendome, ecco questa qui, alcune delle case del Borghito, se mi giri da qui, vediamo, ecco, è un po' difficile perché sono qui, è una bufera praticamente, e quindi farvi vedere un po' è un po' difficoltosa la storia. Comunque, insomma, quel che chiederebbe da me del Borghito, visto dai prati sottostanti. Allora, vi ripeto che il libro, se vuole torno, è questo. Aspetta che vediamo, se vedete. Ecco. Allora, potete domandarmelo, amici, se è a Mezzana o se passa a Mezzana, via 4 novembre 21, ecco, oppure mi trovate su Facebook, La Raza Vatteri, oppure anche nel gruppo tutti i libri della scrittrice La Raza Vatteri. Se dopo volete romparlo su internet, trovate su IBS, che è quello che lo manda prima, mi pare che li hanno scontato, ecco, oppure YouCanPrint, Mondadoristore, principali siti che event libri. Oppure, ancora, se ne è libreria, basta dire il nome dell'autore, La Raza Vatteri, il titolo, Aroma di caffè e profumo di fieno, piccola storia di una casa del Borghito. Aspetta che, mi sono sbagliato in un nas perché mi ha desplazzo di stare qui in questa bufera. Ecco, piccola storia di una casa del Borghito, del Borghito. Editore YouCanPrint, scritto YouCanPrint. Ecco, comunque, se cercare il titolo, vedi come è scritto. Allora, se vi domandare, Crompia o Crompia? Certo, Crompalla, costa solo 8 euro. E lei, un bel ricordo, disegno che è un piccolo libro di memoria, no? Insomma, ovviamente ti riacco al memulino. Però, comunque... Però, insomma, se volete, un bel ricordo di Mezzana. Se sei da Mezzana, se sei da Mezzana abitando a Mezzana, oppure da Mezzana abitando via, i vostri genitori, i vostri avi, i vostri trisavoli, o anche alla lontanissima, ieri da qui, insomma, guardate attorno, no? Naturalmente scherzo, insomma, senza nessun impegno. Comunque, insomma, se vi interessa, ecco, Crompalla. Oppure, se avete qualche problema, senza impegno sempre, naturalmente, potete scrivermi al mio indirizzo larazavatteri tuttacacchiocciolagmail.com Ecco, mi rispondi e potete anche spedirvi il libro senza nessun problema, spedirsi in tutto il mondo, quindi potete spedirvi il libro se avete problemi, magari avete perdito da qualche banda o roba del genere. Oppure vi spedite anche a casa, basta che, insomma, mi mandassete un messaggio su Facebook oppure alla posta elettronica. Ecco, invece, per quei che sei iscritto ai miei due gruppi, grazie per quei che sei iscritti a tutti i libri della scrittrice Larazavatteri, grazie, grazie, perché continuo a rompere i miei libri e, insomma, e a supportarmi, e grazie. E anche grazie mille a tutti quei che sei iscritti a Oriundi di Mezzana della Val di Sole, perché è un bel gruppo, che vedi che interagisce anche se, insomma, magari non metti su vergogni anche a massa, e soprattutto la Patrizia, grazie per il tuo supporto, e insomma, grazie a tutti, veramente, sono contenta, perché con il gruppo degli oriundi, è in modo anche quel per mantenere la memoria e per trovare dei pezzi, insomma, di Mezzana, che magari se la desmenterà, o, insomma, comunque, vuoi, insomma, continuare a ricordare. Allora, mi ringrazio, vi aspetti su internet, a casa, vi aspetti a Mezzana, tutti quei che vuoi passare la portale d'Averta. Ciao, e mi raccomando di romparlo, scherzi. Ciao, grazie a tutti.